Guardate com'è cremosa questa torta, la potete preparare sia con l'ananas fresco che con quello sciroppato. Tagliate l'ananas a piccoli pezzi, mettete poi in una ciotola il mascarpone 3 cucchiai di zucchero, mescolate con una forchetta fino ad ottenere una crema omogenea. Aggiungete i 3 vasetti di yogurt all'ananas, lavorate con la frusta fino ad ottenere un composto ben montato. Stendete in una pirofila uno strato di pavesini, aggiungete poi qualche cucchiaio di succo d'ananas, metà crema di mascarpone e yogurt, dei pezzetti di ananas e coprite con un altro strato di pavesini. Bagnateli nuovamente con il succo d'ananas, aggiungete la restante crema e coprite il tutto con i restanti pezzi di ananas. Riponete la torta in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirla. Come avete visto è facilissimo da fare, potete scegliere tra ananas asciroppato o ananas fresco e mi raccomando se lo provate fatemi sapere.